la vita che sognavo con ester che avrei voluto con lei che se io avessi voluto e che se potessi potrei ancora basta sono più verdi l'ispettore lo sta per arrestare mamma mia sei fissato con serie sei fissato ciao trottolina e la colazione ma che sta diventando un'abitudine mamma tanto vale che vado a vivere da solo io sogniamo una vita piena di avventure ed imprevisti invece che vita abbiamo una vita piatta siamo vita piattissima c'è stato un omicidio indietante io non ho ucciso nessuno ma come te lo devo dire dobbiamo solo riportare le lancette della nostra vita indietro di dieci minuti e tutto questo sarà un brutto ricordo ma lo vedi che sei ignorante il thriller secondo te ora l'assassione viene qua lo uccide prima di chiudo l'acqua perché ce l'ho sciupio che l'ha ucciso il vetatumber che l'ha ucciso chi vi manda aiuto aiuto è vero l'abbiamo ucciso noi padre santissimo dice che la pasta è pronta la nostra due ospite è questo sugo speciale di padre santissimo ma perché mi dovete mettere le riunioni di cosca di venerdì che ho la pescheria piena piena così ci vogliamo vedere su zoom poi mia moglie non l'ha toccata ogni volta che sta con la sbitta tu ci deve chiamare forse non vi siete resi conto che siete in un mare di guai noi saremmo venuti per i pasticcini ma sì certo ma anche per lo scontrino eh pasticcini di pasticcine scontrino eh ecco